Una città all'insegna del verde e del rispetto dell'ambiente. A Bari si può. Lo certifica l'ottimo bilancio dell'iniziativa del Comune che ha trasformato il centro murattiano in un grande giardino. 240 esercizi commerciali hanno partecipato alla manifestazione. 143 negozi hanno allestito la vetrina e promosso attività, educational, concerti, eventi culturali ed animazione. Via a giro il cuore dei giardini del Mediterraneo che ha coinvolto anche i più piccoli. Maiuola e fiori hanno abbellito via Sparano, Principe Amedeo, via Embriani e via Roberto da Bari che è stata chiusa al traffico. L'evento ha totalizzato presenze da record. Stimiamo l'affluenza di 100.000 persone in più rispetto ai normali sabati. Abbiamo sicuramente riscontrato notevole affluenza da parte della provincia oltre che dei cittadini baresi. Abbiamo avuto tutti i parcheggi completamente pieni da quello di Piazza Cesare Battista ai privati, in particolar modo dei park and ride che erano tutti completamente occupati. La città diciamo era un attimino intasata a livello di traffico, c'è stata tanta gente. Perché questa grande affluenza secondo il vostro punto di osservazione e da dove parte l'idea? Secondo me sostanzialmente parte dal fatto che Primavera Mediterranea ha sostanzialmente dimostrato negli ultimi anni ma in particolar modo in questo una comprovata capacità di riconvolgimento del cittadino, del miglioramento degli spazi urbani e nel riuso degli stessi. Il verde poi insomma è un qualcosa in cui non si può mai sbagliare.